Il colonnello, l'esercito italiano riconosce il sacrificio compiuto dai fratelli Galasso, cittadini di San Giacomo degli Schiavoni durante la Grande Guerra. Per noi è un onore consegnare questa onoreficenza al Comune di San Giacomo perché vengono riconosciuti quei sentimenti di sacrificio, di spirito di sacrificio, attaccamento al dovere, attaccamento alla patria che hanno reso onore a questo Paese e a questa terra molisana. Quindi siamo ben lieti di consegnare oggi questa onoreficenza a questo Paese che come tanti altri Paesi qui in Molise hanno visto il sacrificio di molte persone e quindi se noi oggi viviamo sotto questo cielo di libertà e democrazia lo dobbiamo anche all'estremo sacrificio di queste persone qui. Quindi siamo veramente onorati oggi di essere presenti a questo evento. Come vive l'esercito italiano, il momento internazionale che sta evolvendo negli ultimi anni? L'esercito italiano noi siamo impegnati sia all'interno delle nostre mura nazionali sia all'esterno con l'obiettivo primario che è quello della pace. Lo facciamo sul territorio nazionale a fianco alle forze di polizia con l'operazione Strade Sicure e lo facciamo in tutti quei Paesi dove c'è bisogno di noi come le missioni internazionali sotto legge della Nato, dell'ONU, dell'Unione Europea. Quindi siamo dispiegati in Paesi come il Kosovo, la Bosnia, la Libia e il Libano più che la Bulgaria, la Romania e la Lettonia. Quindi dovunque c'è bisogno del nostro intervento noi ci siamo. L'esercito c'è come tutte le forze armate.